Ciao a tutti ragazzi qui come sempre il vostro ARA benvenuti in questo nuovo unboxing qui ho due pacchi enormi c'è questo qui che è bello grosso e sotto ce n'è uno ancora più grande io direi di non perdere altro tempo come al solito e andiamo a vedere le novità di oggi che potete trovare chiaramente tutte sul mio sito ARA shop nel link qui sotto in descrizione ma andiamo ad aprire questo primo pacchetto bello grande, bello pesante tra l'altro eccoci qua sfoderiamo la nostra lama e andiamo a vedere un po' quali meraviglie sono arrivate oggi eccoci qua proprio di lunedì precise appena consegnate eccole qua allora pacco scoperchiato e vediamo un po' ecco pacchi nei pacchi tanto per gradire allora vediamo sono due pacchi si togliamo di mezzo questo che occupa solo spazio lo mettiamo un attimo qui ok tra l'altro ragazzi volevo farvi vedere anche qui su youtube approfitto un attimo sono arrivate le etichette spero si riesca a vedere con lo zoom le etichette che attaccherò sulle figure sul retro non le metterò in modo fastidioso però ogni figure acquistata sul mio shop avrà questa nuova etichetta di garanzia insomma se vedete una figure con questa etichetta ARA shop sapete che automaticamente è al 100% originale perché io vendo solo prodotti originali ragazzi e garantiti ok quindi un ulteriore conferma allora ragazzi qui si tratta di un po' di dissimultiverse allora vediamo un po' cosa abbiamo qui oh figo ragazzi qui abbiamo la nuova statua del batman di jim lee direttamente da batman ash queste statue mcfarland toys sono veramente fighe sono belle pesanti con dettagli ottimi e il prezzo ragazzi molto molto abbordabile è veramente un bel pezzo questa statua veramente bella la vedremo magari nel dettaglio in un video fatemi sapere se siete interessati poi attenzione confezione abbastanza strana per questo batman justice league che include il comic book eccola qui una confezione diversa vedete sul bianco sempre mcfarland toys però all'interno appunto c'è anche il fumetto bellissima non justice league scusate injustice mi sono confuso eccolo qua figo anche questo molto molto figo stanno migliorando a vista d'occhio questi della mcfarland toys e ragazzi finalmente sono arrivati sono arrivate le figure di batman the dark knight e qui abbiamo la prima ovvero lo spaventapasseri e come sono arrivate sono esaurite se non le avete preordinate purtroppo ragazzi non potrete avere copie di queste figure io ve lo dico sempre quando è necessario preordinare quello è purtroppo io non ci posso fare nulla perché non posso inventarmi altre copie purtroppo via altro pacchettino qui immagino ci siano le altre figure della linea dedicata al cavaliere oscuro al film di nolan il tanto amato film di nolan eccoci qua allora quindi da domani partiranno le spedizioni di queste figure e infatti questo è bomba bombetta abbiamo il batman eccolo qua il batman da the dark knight avrei dovuto ordinarne molte di più però ragazzi le copie sono sparite in manchino city che non ho avuto neanche tempo di fare il rifornimento bomba veramente questo veramente fighissimo tra l'altro poi si costruisce bene una roba assurda questo qui dovrebbe essere un case sì solo di batman che però ripeto purtroppo sono tutti prenotati non sto scherzando non ci posso fare nulla ragazzi ora solleviamo quest'altro pacco e vediamo di metterlo in impostazione se ci riusciamo ok dai faccio allenamento ogni volta che arrivano questi pacchi pronti vai sicuramente qui ci saranno le altre figure di questa linea dedicata al cavaliere oscuro eccoci qua però non credo solo quelle vediamo un po' capiamo un attimo poi dovranno arrivare ancora altre novità ragazzi quindi state sempre sintonizzati sul canale se non vi siete iscritti iscrivetevi allora altri case altri pacchi questi li andiamo ad aprire direttamente qui nel pacco ok di chi si tratta vediamo sarà ancora batman sì sono ancora copie di batman che purtroppo ripeto sono esaurite per quanto siano tante ragazzi sono esaurite e ancora vediamo un po' qui dovrebbero esserci sicuramente altri personaggi e infatti abbiamo un'altra copia del batman di injustice che ci sta sempre bene poi due facce eccolo qui altra grande figure bellissima una delle poche rappresentazioni di questo due facce in particolare dal film poi rivedo scarecrow altri due facce però ancora ancora non esce fuori il joker attenzione dovrebbe essere per forza in questo altro pacco se il fornitore non mi ha scammato vediamo un po' senza tagliarci dita eccolo qua vai vediamo se riusciamo a beccare il joker con un tocco magico ci sono sei figure qui questo è il joker eh ragazzi l'ho beccato l'ho beccato eccolo il joker di hit ledger eccolo qui e quindi ci sono tutte e quattro le figure sì per chi le ha preordinate ripeto purtroppo se non avete preordinato queste figure ragazzi niente da fare niente da fare mi dispiace eccolo qua il joker di hit ledger fatto molto bene anche questo ragazzi hanno fatto veramente un gran lavoro io spero che in un futuro le ristampino ragazzi però la vedo dura perché questi sono diritti dei film e i diritti dei film scadono e costano tanto da avere per stampare le figure ragazzi questo è quanto oggi solo praticamente roba prenotata il batwan di injustice lo troverete sul sito anche di quello ci sono state alcune coppie prenotate però è veramente figo però alcune libere fortunatamente ci sono è molto molto figo questo batwan penso proprio che lo aggiungerò alla mia collezione anche perché mi manca questa versione ed è ripeto veramente bello allora ragazzi l'unboxing di oggi finisce qui state sintonizzati sul canale perché vedremo recensioni di vari batman ci saranno altri unboxing con altre bombe in arrivo io vi ringrazio sempre per la visione ciao da ara collezionate sempre grazie a tutti